Ciao ragazzi, ciao ragazze, oggi andremo a preparare una spremuta di pompelmo e limone. Sono due frutti che io gli consiglio molto, soprattutto per scendere di peso. Allora andremo a spremere il nostro pompelmo. Allora andremo a spremere il nostro corso. Ora spremiamo un po' di limone. Allora andremo a spremere il nostro corso. Allora andremo a spremere il nostro corso. a chi riesce a berlo amaro va molto meglio io non riesco mi piace sempre dolce e va consumato soprattutto la mattina lo lasciamo riposare un po in frigo e poi lo andremo a consumare e più ne beviamo meglio è grazie per aver seguito il mio video ricetta vi auguro a tutti una buona giornata e al prossimo video ciao a tutti a presto